signori il nostro cane l'abbiamo recuperato speriamo che si sieda insieme a noi come ti chiami? grandioso eh? che bel cane facciamoci un bel video cane guarda 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 il cane che fate? mai ci due crocchette eh? ah sì ah sì non ci scassare niente che bello e poi non diciamo che a palermo allo stadio non ci va nemmeno un cane ah ma piano